Grazie a tutti. E qui ospite il graditissimo di Arte24 perché il primo sardo, io credo, che si intenda di Marchingegni sull'arte, che si è riuscito a fare dei discorsi dove il cervello domina sulla irrazionalità, dove la passione non diventa un elemento di disturbo per un'analisi obiettiva, serena, delle cose che sono avvenute in Sardegna. E' riduce da un dibattito molto importante tenuto a nuoro qualche settimana fa, dove c'è stata una mostra dei nostri maestri della pittura sarda, dove appunto è venuto fuori per la prima volta, io credo, in Sardegna questo discorso così sereno, così ricco di strumenti capaci di permettere a tutti di vedere queste cose appunto senza la passione, senza la nostalgia, senza l'amore per questa nostra bellissima terra che è la Sardegna e che molte volte stravolge il nostro modo di vedere le cose, quindi ci impone di vedere queste cose appunto in maniera irrazionale, in maniera molto passionale, ma poco pensata. Allora, benvenuto a Salvatore, con lui vorremmo un po' riprendere il discorso di nuoro per allargare questa possibilità di offerta di strumenti anche ai nostri amici di Cagliari, probabilmente si organizzerà una mostra anche qui a Cagliari, cosa dici Salvatore? Può darsi, anzi io ritengo che sia la cosa migliore da farsi. Bene, è molto importante perché appunto per troppo tempo ci siamo cullati sulla sardità, ci siamo lasciati prendere da questa passione e così non siamo stati capaci di vedere nella realtà. Io vorrei riferire un mio intervento molto provocatorio che ho fatto a nuoro per dare una misura di quello che si potrebbe dire. Io ho definito gli artisti che operarono fino a qualche decennio fa dei crostaroli, naturalmente la mia era una provocazione che aveva lo scopo di sbloccare una certa situazione che ormai era diventata stagnante e serviva soprattutto a dar corpo alle indicazioni che Naizza dava, cioè questa possibilità di vedere le cose appunto, come dicevo, in maniera razionale. Ecco, da dove pensi che potremmo partire per avere una visione piuttosto chiara di questo? Sì, io direi che si potrebbe, un po' come è stato fatto a nuoro, iniziare con il significato che potrebbe avere questa mostra o una mostra di questo genere. Cioè intanto prendiamo atto di una crisi che oggi c'è nell'arte e prendiamo atto anche di un altro fatto, cioè che più o meno oggi si tende a rivisitare, a rivalutare i movimenti passati, alle volte proponendo non tanto una visione, un discorso culturale vero e proprio, quanto proponendo modelli da riprendere e da rimeditare, indicando una stagione felice di fronte alla crisi attuale. Ora, io non volevo fare questo a nuoro, naturalmente, ma pensando che si discute continuamente sulla sardità, che si discute un po' all'insegna di questo sentimentalismo che ci blocca, tutto sommato, ci fa perdere delle battute del mondo contemporaneo, ho pensato che vedere un po' quello che c'è stato e dare un valore, un significato a quello che è stato, che c'è stato in Sardegna nel campo dell'arte dall'inizio del Novecento, più o meno agli anni del fascismo, agli anni intorno al 1935, potesse essere l'occasione per pensare, riflettere, mettere da parte un problema, valutarlo, insomma, per quello che è stato, più o meno, e non mitologizzando, facendo dei miti, e partire poi con un discorso più chiarito, per vedere ciò che succede oggi e per addentrarci nell'oggi senza portarci pesi morti. Questo è stato un po' l'intenzione, e credo che abbia funzionato, perché la mia impostazione tendeva intanto ad escludere o a chiarire una certa prospettiva. Cioè, questi autori sono tutti sardi, vanno da Felice Melismarini, incisore di grosso successo anche in campo nazionale, sino agli artisti che si sono maturati più tardi, intorno al 1930-35, e che comprende come ultimo rappresentante Giovanni Ciusa Romagna, che comprende come altri rappresentanti Carmelo Floris, per quanto lui appartenga piuttosto alla prima ondata, se vogliamo, e che arriva Pietrantonio Manca, che gode meritatamente anche di una fama tipittore, sensibile, robusto, eccetera, eccetera. Ora, questi nomi, secondo me, sono stati visti sempre circondati da un'aura, da un'aureola anzi, per cui diventavano i rappresentanti Tukkur, i rappresentanti unici, si può dire, e grandi dell'arte sarda. E addirittura sono stati fatti oggetto di un carico che, secondo me, non gli compete, cioè come fondatori di una tradizione. Una tradizione che poi è stata, ogni volta che compariva qualche voce nuova, rimessa fuori per indicarla come valore e per riproporla, così come è stata. Secondo me queste sono operazioni sbagliate, antistoriche, che non ci fanno guardare nemmeno la realtà, così come si è svolta, non ci fanno partire con il piede giusto. Ecco, vediamo un po' di capire da quali parametri si partiva per determinare questi artisti come artisti sardi, come rappresentanti di una cultura sarda, e quali dovrebbero invece essere i parametri per vedere questi artisti come operatori culturali e in che maniera la loro opera si colloca in un contesto, se vogliamo, ancora regionale o, se vogliamo, ancora nazionale o europeo. Ecco, i parametri precedenti su quali basi si fondavano? Ora, secondo me quasi tutti hanno equivocato, perché sono stati ritenuti fondatori di un'arte sarda, in quanto il loro tema fondamentale è stata la Sardegna. Cioè, a livello tematico di soggetto, processioni, campagna, la festa, il funerale, le nozze, erano viste come dati della Sardegna profonda, erano visti come gli unici dati della realtà, quelli qualificanti, non a caso, per esempio, difficilmente si trova in loro una città, si trova in loro una festa cittadina, un corteo, eccetera, eccetera, hanno ripiegato sulla campagna, hanno ripiegato sulla zona dove la tradizione si è, così, conservata più a lungo, anche per ragioni di sottosviluppo, diciamo chiaramente, dove certe tradizioni affioravano ancora. Ora, affioravano spesso spontaneamente, spesso anche ormai manovrate a livello di manifestazione folcloristica. Cioè, vedere la Sardegna per loro è stato soprattutto identificarla col suo folclore, con le sue tradizioni, quindi questi temi hanno avuto come personaggi, come immagini, donne in costume, variopinti, uomini, tutti quanti con la mastrucca ancora, la festa era festa a Greste, mai la festa in città, se non qualche raro episodio, e tutto questo è un elemento che, secondo me, è tematico, ma che è stato assunto come contenuto profondo di un'arte tipicamente sarda, trascurando invece attraverso quali linguaggi precisi questi contenuti sono stati divulgati, sono stati mostrati alla gente. In effetti è stata un'operazione che, mettendo su tutto quello che la Sardegna offriva nel campo folcloristico, ha fatto trascurare il fatto invece che fosse espresso in un linguaggio che era ormai il linguaggio nazionale, perché il tema fondamentale, il rapporto fondamentale che bisogna vedere è questo. La Sardegna è stata dominata sino ai primi decenni, al 1720, diciamo, dalla Spagna e dalla cultura spagnola, cosa che ha continuato addirittura per tutto il Settecento, e l'arte che si è vista di tipo italiano veniva da fuori, veniva attraverso committenze di continentali, diciamo, che risiedevano in Sardegna, avevano titolo anche per fare queste cose, quindi per ordinare nei loro luoghi, Piemonte, a Genova, a Roma, le opere, e diciamo che l'arte che a livello popolare ha continuato a valere per i pochi sardi che noi possiamo ricordare, era legata piuttosto ad altri schemi, a schemi spagnoleschi, soprattutto. Sì, e scusa se ti interrompo. Dunque, mi pare di capire che questi artisti sono stati valutati all'interno di un parametro parziale, cioè, si è detto, siccome dipingono cose di Sardegna, le processioni che si fanno in Sardegna, i costumi sardi e queste cose sono pittori, artisti, che portano, che veicolano la cultura sarda. Questo è il parametro parziale. Tu dici che, invece, va considerato un altro parametro che è quello del linguaggio. Certo. Detto in altre parole, significa probabilmente questo, che per esprimere i problemi della Sardegna, i problemi della campagna sarda, dei contadini, dei pastori, eccetera, questi artisti hanno dovuto imparare a parlare l'italiano. Certo. Bene, io direi di sospendere questo problema un momentino e vedere se nel passato, invece, esisteva un modo di esprimersi, ma che riguardassi il linguaggio, che potesse essere definito come un modo sardo di esprimersi, cioè, che producessero, che gli artisti producessero delle opere che a un tempo trattassero di problemi sardi, di ciò che avveniva in Sardegna, ma con un linguaggio che poteva connotarsi come sardo. Siccome mi pare che è probabilmente un problema piuttosto lungo, io direi di lasciare prendere fiato ai nostri amici, interrompiamo con un breve stacco e riprendiamo subito dopo. Si diceva prima dello stacco che gli artisti che operarono in Sardegna ai primi del secolo, fino a circa vent'anni, trent'anni fa, utilizzarono un linguaggio che non veniva dalla Sardegna. Si trattava in realtà di artisti che uscivano dalla Sardegna, studiavano nel continente, rientravano possessori più o meno coscienti, più o meno padroni di un linguaggio e così con questo linguaggio trattavano le problematiche sarde. Ecco, precedentemente esisteva una peculiarità del linguaggio, cioè si può dire che certi artisti sardi si riconoscono come tali non perché parlano di problemi della Sardegna tanto per intenderci non perché ci sono i costumi sardi ma perché il linguaggio di cui si servono è sardo voglio dire uno va in continente se parla in sardo si dice quello è un sardo qualunque cosa dica anche se parla di rovelli mettiamo e quindi usa un linguaggio che è tipico della sua terra. La stessa cosa si può dire per quanto riguarda le opere d'arte chi vedesse un'opera almeno quelle più significative di artisti precedenti a quelli di cui stiamo parlando è in grado di dire questo è un artista che parla un linguaggio sardo ecco questa è la domanda la domanda è piuttosto complessa e occorrerebbe un grosso tempo anche per una risposta ma vorrei riattaccarmi appena a quello che dicevo proprio per questo da un lato c'è una lunghissima tradizione o un lunghissimo periodo storico in cui la Sardegna non gravitava soprattutto sull'Italia dal passaggio al Piemonte soprattutto nel momento del risorgimento noi abbiamo invece la Sardegna che gravita intorno ai problemi nazionali partecipa secondo me in modo molto subalterno alle vicende dello Stato italiano sino alla sua formazione e comunque questi problemi sono diventati essenziali fondamentali e il sardo ha dovuto adeguarsi ad un livello nazionale uscire dalla sua lingua e dai suoi problemi per proporli poi in una sfera più ampia nella sfera della egemonia ecco in questo senso credo che i pittori del Novecento si siano mossi in questa prospettiva però ecco giusta questa osservazione il sardo e il non sardo esisteva o non esisteva qualcosa a livello di linguaggio di stile nell'arte quindi che potesse essere definito sardo e non altrimenti secondo me questa intanto è una una cosa verificabile è stata precisata da Maltese dalla Serra e così ormai è un punto critico che ha funzionato perfettamente nella ricerca di questa identità nella ricerca di precisare le influenze esterne su artisti che hanno operato in Sardegna mettiamo nel Quattrocento nel Cinquecento soprattutto cioè nei momenti in cui i linguaggi e i temi hanno cercato di escludere la regione per diventare temi generali il rinascimento è stato anche un grosso fatto cosmopolita di cosmopolitismo che ha unificato i linguaggi in Europa almeno a livello dell'arte e quindi in questi periodi ci sono stati influssi di arte italiana su artisti come Michele Cavaro per esempio come Pietro Cavaro e con che età vivevano? diciamo tra il Cinquecento i primi del Cinquecento e la seconda metà del Cinquecento allora voglio dire proprio in un periodo cruciale in un periodo in cui questi problemi erano i problemi di tutti gli artisti e tutti gli artisti cercavano di imparare dall'Italia le linee fondamentali di un nuovo spazio di una nuova ambientazione di nuovi temi di nuove ideologie anche e concezioni dell'arte quindi anche qualcosa è arrivato in Sardegna e ha trasformato un certo modo di vedere le cose e noi in quel caso dovremmo dobbiamo sempre muoverci in questa alternativa cosa hanno imparato da fuori in che modo si sono inseriti nel mondo che viveva che non era certamente nato che non si era originato in Sardegna e in che modo invece possiamo ancora considerarli nella loro particolarità isolana eccetera eccetera ora questo è il problema ancora oggi mi sembra però per precisare quella zona stilistica che possiamo chiamare Sarda possiamo dire che dalla cultura bizantina quindi molto molto indietro nel tempo il periodo che va intorno al 400 500 dopo Cristo e via di seguito cioè periodo in cui è stata occupata e fatto parte dell'impero romano d'Occidente d'Oriente e in quel periodo si sono determinate delle caratteristiche che erano le stesse del mondo bizantino cioè la ricerca di planarità di solennità questa assenza del problema dello spazio come entità caratterizzante il mondo figurativo e in Sardegna diciamo che a livello oggi diremmo antropologico a livello quindi della cultura antropologica la decorazione i tappeti gli oggetti d'uso a questo livello sono stati recepiti molti dei caratteri ripetitivi dei caratteri formali planari soprattutto e cromatici quindi colore e superficie come dati essenziali della figura poi ti chiederò di specificare meglio ricordati di che parli anche a non addetti ai lavori quindi è meglio ridurre in soldoni comunque non ti preoccupare io ti interromperò continuamente se è il caso senza offenza certo no 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 siamo qui soprattutto per questo per farci capire perché è un discorso che sinora è riservato ai tecnici diciamo già dire spazio e pensare a spazio per quanto riguarda un quadro e proporre una difficoltà certo più che chiarire un problema ecco non è che siano problemi difficilissimi da capire sono problemi facilissimi basta esprimerli così in maniera adeguata ecco cominciamo da questo concetto di planarità ecco planarità e intanto planarità significa che tutta quanta la figura viene riportata su un piano su una superficie si dirà che qualsiasi quadro a olio qualsiasi stampa eccetera eccetera in effetti ha una superficie quindi tutto quello che c'è è realmente su una superficie però nella maturazione delle idee sulla figura sono affiorati dei modi sono imposti dei modi di fornire la terza dimensione quindi problemi di mettere in prospettiva cioè la profondità ecco di dare la profondità alle alle cose rappresentate in effetti le immagini sono sempre state sul piano però fare una linea in diagonale significa per l'occhio nostro abituato a recepire in quel modo a vedere in quel modo significa una indicazione di profondità e finiamo anche per rilevarlo in quel modo una casetta che si dipinga su una superficie ha una parte più scura una parte più chiara ha una parte che indica le linee di fuga così come le coglie anche l'occhio che vanno verso il fondo e queste sono indicazioni spaziali ora queste indicazioni spaziali in Sardegna non sono state mai un problema non sono state neanche prese in considerazione anche quando si è fatto e lo si è fatto nel Cinquecento quando è penetrata di più la visione rinascimentale che puntava a questa ricerca spaziale di indicazione della terza dimensione quindi della profondità anche allora si può vedere che l'insieme delle rappresentazioni delle cose degli oggetti rappresentati nella figura non hanno quella compattezza quella convergenza verso un unico punto di vista di fuga che hanno le opere del Quattrocento per esempio che hanno le opere italiane rinascimentali quindi in effetti anche allora la prospettiva è stata concepita come una macchina per far vedere più realisticamente le cose ma è sfuggito il senso matematico di sistemazione di uno spazio complessivo coordinato da elementi geometrici da elementi misurabili e per dare più spazio invece ad altre cose per dare più spazio alla descrizione alla narrazione al particolare che certamente finiscono per essere elementi di dispersione nel senso rinascimentale del termine scusa io adesso provo a ridurre ancora in soldoni tanto per capire ulteriormente quanto tu dici io proporrei di immaginare questi artisti di fronte a una tela bianca un artista del rinascimento mentre riempiva la superficie di questa tela e quindi usava dei colori quindi impiegava delle linee dei segni teneva conto di una rappresentazione della realtà che fosse per quanto possibile fedele attraverso lo strumento della prospettiva per esempio che fosse per quanto possibile fedele a una realtà esterna come quella che veniva percepita dagli occhi quindi sistemare un certo colore significava valutarne anche per esempio la trasparenza valutarne gli sfumati per esempio mi pare di aver capito che invece questi artisti sardi non si ponessero questo problema ma avessero davanti anche loro una tela bianca con delle parti di questa superficie che comprendevano poi infine tutta la superficie da riempire di colore pezzo a pezzo cioè anziché dipingere in profondità dipingevano in orizzontalità o in verticalità diciamo tenendosi su un piano ecco quindi ciò che viene da ciò che si può vedere in queste opere che cos'è è una mancanza di profondità e una piattezza di colore si può dire piattezza del colore possiamo dire che il colore veniva campito e veniva scelto anche con preferenza per colori molto forti i quali colori molto forti poi accostati giustapposti incastrati uno vicino all'altro contribuiscono a questo senso della superficie a dare il senso della superficie e infatti l'altro versante del carattere se vogliamo dire così della pittura sarda è questo cromatismo accentuato oggi potremmo dire addirittura espressionista tipo quello che si ritrova poi in certi tappeti fortemente contrastati e coloratissimi e la mancanza di sfumato la mancanza di chiaroscuro la mancanza quindi di tutti quegli accorgimenti che accompagnano la nostra visione naturale intendiamoci grosso modo in questo senso lì non venivano messi in atto in effetti una superficie vicino all'altra erano due zone di colore piatto generalmente e geometrizzato ma nel senso che potevano essere riportati ad uno stile ad una stilizzazione diciamo anzi e quindi in effetti si negava anche quel minimo di intenzione di riproporre lo spazio proprio perché per loro non costituiva un problema perché non lo sentivano perché non corrispondeva ad una civiltà che ripeto potrebbe riagganciarsi al mondo bizantino che ha sempre inteso le cose in questo senso eratico immobile molto fermo e attraverso immagini ripetute ripetitive tipico poi quasi sempre dell'artigianato quindi la cultura sarda che noi troviamo e che possiamo indicare in questi due termini di planarità e di cromatismo è tipico e unificante un po' della cultura del grande pittore e della grande arte anche lì mettiamo le virgolette su questo grande eccetera eccetera è tipico anche dell'artigiano è un po' quindi una base che possiamo considerare come fondamentale in Sardegna qualcosa che poi verrà invece contraddetta proprio nel novecento ecco va bene allora di questo parleremo dopo il prossimo stacco credo sia stato abbastanza chiaro il discorso precedente direi molto importante eccezionalmente importante perché come dicevo all'inizio è la prima volta che questi discorsi si fanno in Sardegna soprattutto per bocca di Sardi i pittori diciamo fino al settecento all'incirca ecco fino al settecento gli artisti in Sardegna riescono a connotarsi a distinguersi diciamo non soltanto perché trattavano problemi diciamo contenuti che riguardavano la Sardegna ma anche perché esprimevano questi contenuti attraverso un linguaggio che era tipico che si distingueva dagli altri linguaggi come dire ripetendo l'esempio che ha fatto prima un sardo che va nel continente e non solo parla di cose sarde ma ne parla in dialetto sardo ecco diciamo che si tratta di un modo di esprimersi tipico e inconfondibile bene questa cosa si almeno dal discorso molto interessante che ha fatto Salvatore Naizza prima dello stacco questa questa cosa appare molto evidente nei pittori del passato del passato di remoto adesso io proporrei di rientrare in tempi molto più ravvicinati e vedere come e se gli artisti del nostro secolo sono riusciti a connotarsi cioè a distinguersi in quanto artisti sardi ma non solo perché trattavano di problemi sardi ma perché utilizzavano per esprimere questi problemi un linguaggio linguaggio pittorico ovviamente che fosse sardo che si potesse dire sardo ecco questo già dall'inizio si diceva che non è avvenuto anzi si diceva che era uno dei parametri che non veniva considerato dagli esegeti della dell'arte in sardegna ecco vediamo un po' perché secondo te è avvenuto questo questa differenza questa incapacità a connotarsi linguisticamente come sardi ecco io penso ritorno alla situazione politico sociale che si è determinata in seguito proprio alla partecipazione alla costruzione dello stato unitario alle vicende quindi dello stato nazionale uno stato che era stato caratterizzato da scuole regionali che poi soltanto dopo l'ultima guerra mondiale diventa una una nazione una nazione fatta di grandi differenze di grossi salti ma tutto sommato una nazione italiana unita che cercava un suo centro anche culturale di eliminare le differenze regionali eccetera una cosa secondo me che gli artisti del novecento hanno capito cioè per loro la situazione di inferiorità sociale economica politica in cui la Sardegna si è venuta a trovare proprio perché è messo in mezzo a regioni molto più forti economicamente culturalmente più accreditate eccetera eccetera l'ha portata a proporre una contestazione di tipo autonomistico eccetera eccetera ma con l'avversario o con il polo opposto nello Stato cioè si trattava di far capire un po' a tutti quanti quali fossero le particolarità dell'isola e non lo potevano fare certamente parlando il dialetto ricorrendo alle loro abitudini figurative diciamo quelle che abbiamo già descrito allora intanto le strutture scolastiche non esistevano per cercare di apprendere il mestiere sono dovuti andare fuori dove le accademie si basavano sempre su quei valori che vengono dal rinascimento vengono quindi da una cultura da cui la Sardegna è rimasta abbastanza esclusa l'avere appreso questo mestiere lì significa non soltanto aver appreso un mestiere ma aver appreso il veicolo essersi impadroniti di un veicolo di un canale per comunicare con una comunità più vasta con un mondo più vasto che era quello nazionale il problema loro secondo me è stato essenzialmente questo portare le questioni sarde quindi la loro realtà che li rendeva particolari attraverso quegli schemi figurativi sia in scultura sia in pittura che potevano essere intesi alla stessa maniera di quelli proposti in altre regioni quindi non visti soltanto come episodi di artigianato curioso così per incrementare un certo esotismo che si proponeva soprattutto nell'ottocento per le terre lontane le terre particolari le terre barbare e così via ma proprio per portare alla luce del sole discorsi che altrimenti non avrebbero avuto sbocco quindi lo sforzo fatto da questi artisti non è stato quello di ripescare badando alle proprie cose nel passato quindi di non fare un'opera di filologia di studio approfondito dei propri linguaggi del proprio mondo espressivo ma di fare il salto di qualità quindi di esprimersi all'interno di una comunità che parlava diversamente e in questo senso l'accademia è servita la scuola così continentale diciamo è servita proprio per questa azione di appropriazione di linguaggi dopodiché è chiaro che hanno espresso dei contenuti che erano intorno a loro che proponevano continuamente la Sardegna come valore il mondo contadino come valore il folklore come valore e magari trascurando quello che abbiamo detto la città che era troppo continentalizzata il contenuto di tipo sardista quindi noi lo ritroviamo ma troviamo espresso i modi che sono quelli italiani anche se nella forma che nelle scuole portava indietro le cose certamente non furono interessati dai futuristi ecco questo è un problema abbastanza importante come mai questi artisti che pure volevano porsi a un livello non più regionalistico non volevano più chiudersi ma volevano porsi a un livello di cosmopolitismo ecco come mai hanno scelto dei linguaggi che allora in Europa anche in Italia in fondo erano già morti erano già finiti cioè nello stesso periodo in cui questi nostri artisti dei primi del secolo viaggiavano andavano nel continente non imparavano una lingua viva che era quella per esempio proposta appunto dai futuristi ma imparavano una lingua che era accademica che era non dico morta ma forse defunta insomma sì sì dagli effetti dei valori figurativi certamente erano delle cose ma secondo me proprio intanto io definirei in termini politici un atteggiamento moderato quello che ha caratterizzato i nostri pittori in tutto e per tutto nessuno escluso si può dire hanno trascurato quelle forme rivoluzionarie che forse avrebbero in quel momento impedito di apprezzare nei livelli proprio dirigenziali che erano ancora legati all'accademica e basta ricordare all'accademia ricordare la polemica di Boccioni contro la muffa dei musei delle accademie eccetera eccetera o Marinetti la battaglia dei futuristi per rendersi conto che questi avevano davanti proprio nei posti di comando nei posti chiave non già degli uomini che badassero al futuro e che stimolassero un discorso artistico avanzato anzi erano piuttosto conservatori e tendevano a rifugiarsi nell'arte del passato come valore e ad apprezzare a far andare avanti gli episodi figurativi culturali artistici culturali che ancora si venivano fuori dal romanticismo dal verismo dell'Ottocento che erano forme che non avevano mai contraddetto la linea rinascimentale classica che era ormai la cultura più quietamente accettata quindi anche i nostri cercando un livello di discorso che fosse all'interno di una sfera non troppo avanzata hanno finito per trascurare ignorare si può dire il futurismo cioè le forme valide nuove per attardarsi in quelle regole per apprendere bene quelle regole che consentivano di considerare di essere considerati come pittori nazionali come del resto io ritengo che in tutto quel periodo anche queste manifestazioni clamorose come quelle del futurismo hanno intaccato soltanto in parte un certo orizzonte figurativo la maggior parte degli artisti degli operatori artistici diciamo certamente non di grande allevatura hanno continuato a proporre certe forme diciamo soprattutto studo figurative che potevano variare nell'uso dei colori che potevano accettare il puntinismo fraintendendolo che potevano accettare certe forme che venivano dall'ambiente dell'art nouveau dal simbolismo eccetera ma che tutto sommato continuavano in questa concezione spaziale che viene dal rinascimento e nella concezione anche della figura come rappresentazione come visione di ottica che si fa attraverso l'occhio della realtà non accettando questo concetto del dinamismo questo concetto dello spazio che cambia del meccanismo che diventa un fatto importante e che va rappresentato diversamente e non più in forme statiche quindi questo è un po' io vorrei fare una riflessione maligna mettere a punto brevissimamente quanto hai detto primo questi artisti erano dei conservatori secondo questi artisti da molti esegetti di oggi vengono considerati come portatori della cultura sarda allora la riflessione è questa se questi artisti erano dei conservatori ed erano dei conservatori perché potevano scegliere altre direzioni e non le scelsero furono artisti che amarono farsi colonizzare seconda riflessione gli esegetti di oggi che si riferiscono a questi artisti come parametro di sardità sono individui che vogliono farsi colonizzare tramite strumenti di altri che si fecero colonizzare il discorso sarà complicato comunque penso sia importante dirle anche queste cose dunque Salvatore qui abbiamo ancora 3-4 minuti quindi brevemente se riesci a indicare alcuni di questi artisti molto fra i migliori diciamo fra quelli più in vista identificare questo parallelismo del linguaggio cioè a chi si riferiva a Tizio a chi si riferiva a Caio dando anche qualche indicazione perché i nostri amici possano vedere di persona forse chiuderemo bene in questa nostra trasmissione sì io direi che una delle personalità più rappresentative è Francesco Ciusa è l'autore della Madre dell'Ucciso una statua che è stata celebrata che nel 1907 ha vinto un premio grossissimo il primo premio alla Biennale Veneziana che è stato poi però assunto come emblema della Sardegna quindi emblematizzato in questo modo assurdo a simbolo ecco a me sembra intanto che bisogna considerare che Francesco Ciusa ha studiato a Firenze un centro che è rimasto tradizionalmente avvinto nella tematica e nella problematica del Rinascimento che nell'Ottocento però ha avuto episodi grossi come quello dei Macchiaioli e che ha avuto poi una scuola di verismo anche di tipo sociale notativo eccetera eccetera in Adriano Ceccioni per esempio quindi voglio dire che Francesco Ciusa ha avuto nella sua formazione questi esempi e le statue che lui faceva potevano riferirsi benissimo alla statuaria che si faceva a Firenze alla fine dell'Ottocento e la madre dell'ucciso secondo me si inquadra in questo filone e è stato visto quasi in tutti i libri che parlano di quel periodo come uno degli episodi del verismo italiano e non hanno non sono andati oltre Figari ha fatto la stessa ha avuto una una via non molto dissimile e forse uno di quelli che ha viaggiato di più e visto di più ma se noi vogliamo vedere le opere sue di grande respiro la questione dello spazio la questione della prospettiva la questione addirittura della rappresentazione degli individui del ritrato è concepita all'interno di modi che sono di tipo classico aulico monumentale ciò che contraddice proprio tutti i criteri che noi attribuiamo ad una figurazione sarda la cosiddetta sardità io devo tagliarti ormai la parola perché i tempi sono strettissimi sono molto lieto ad averti avuto ospite perché credo che se continuiamo con questo tipo di interventi è probabile che molte cose vengono fuori con la testa anziché con le viscere allora grazie a Salvatore grazie anche ai nostri amici che ci hanno seguito e a sentirci alla prossima volta abbiamo trasmesso arte 24 divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula grazie a tutti grazie a tutti